Eccoci, siamo arrivati all'ultima puntata della miniserie su E' quello che è, un libro edito da Fabri che è uscito dall'ottobre 2023, in cui si prova a dare un'infarinatura, ma anche un grande approfondimento rispetto alle tematiche dell'affettività e della sessualità attraverso 100 domande e 100 risposte. Facciamo riferimenti a studi, teorie, cultura pop, un po' dei cani, un po' di Drake, un po' di The Weeknd, un po' di Contessa come vibe. Proviamo a dare questa infarinatura e proviamo a dare una sorta di filone orientativo e traghettamento rispetto a quelle che sono appunto queste due tematiche. Oggi qui con noi c'è Carlo ad accompagnarci che ringrazio tantissimo. E niente, qual è la domanda di oggi? Allora, la domanda di oggi viene dalla fine del libro, dal capitolo 78. È un argomento su cui c'è tanta confusione e a cui tu oggi ci darai una chiarita sul tema, quindi una risposta bella, completa e chiara. Che cos'è lo squirt? Allora, lo squirt innanzitutto è un fenomeno arrivato dal porno, probabilmente, in cui a un certo punto è iniziato a comparire e tutti ci siamo chiesti, ma che è sta roba, no? E se sono creati tutta una serie di credenze, falsi miti, tutte le donne possono squirtare, se non ci riesco c'è qualcosa di sbagliato, vorrei riuscire perché mi sento in difetto nel non riuscire a farlo. In realtà, che cos'è? È una cosa, innanzitutto, che non è solo a prerogativa femminile, ma esiste anche lo squirting maschile e dopo magari facciamo un piccolo accenno. E lo possiamo riassumere come una fuoriuscita più o meno involontaria di urina, perché purtroppo, o per fortuna, è urina, durante una stimolazione sessuale. Sul come arrivarci, la metodologia, la scienza non ha dato una risposta certa, ma quelli che sembrano essere i metodi, alcune persone attraverso la stimolazione credore di idea, alcune persone attraverso una doppia stimolazione, quindi credore di idea vaginale, ma per la maggiore va la roba di Spider-Man, quindi di andare a stimolare quello che è il punto G, che in realtà poi è stato riformulato come zona G o zona CUV, che è quella parte ruvida, molto irradiata, che segue tutta l'innervazione del clitorio, che sta circa due centimetri dentro il canale vaginale verso la parete superiore, stimolando in questo modo, facendo un movimento, ci scherzo sempre quei amici, il movimento deve essere del porso, deve essere del braccio, eccetera, perché se no si affatica, poi c'è la tendinite, può accadere quella cosa lì, nel provocarselo da solo, a volte può accadere da sole, può accadere con un toy, come può accadere con la stimolazione creditoridea, può accadere con questa stimolazione, è chiaramente bisogna assumere una posizione da seduti, perché altrimenti è difficile, a meno che uno non c'ha un allungamento delle braccia molto particolare e molto... Tipo può riuscirci Kevin Durant e basta. Kevin Durant, se avesse la patata, riuscirebbe, o Francis Ngannou, che ha le braccia più lunghe del mondo. Detto questo, al di là della stipulazione e del come arrivarci, possiamo innanzitutto dire che non c'è nulla di male nel non riuscirci. Però fondamentalmente, appunto, cos'è? È un qualcosa che può essere piacevole, non coincide con l'orgasmo, o può coincidere con l'orgasmo, ma sono due cose separate. È separato anche dall'eiaculazione femminile, che in realtà è la fuoriuscita di, fondamentalmente, PSA, che è una sostanza prostatica biancastra, che volgarmente a Roma si chiama ciorra. La ciorra. La ciorra. Che però ha una secrezione, non dal meato uretrale, non dalla vescica, come lo squirt, ma dalle gandole di skin che sono in prossimità dell'uretra femminile. Quindi, di base, questo è lo squirt. Niente di più, niente di meno. È un qualcosa che può essere piacevole. È un qualcosa che altre persone trovano, invece, imbarazzante, perché magari dicono, oddio, che è sto casino che ho fatto. Ma se è piacevole, se piace al partner, se ci piace, è un qualcosa che, indipendentemente dalla composizione e indipendentemente da ciò che ci può scaturire, se è piacevole, ben venga. Ben venga, dimmi. Accenniamo allo squirt maschile? Un piccolo accenno allo squirt maschile. Accenniamo allo squirt maschile. Di studi non ce ne sono tanti, c'è solo uno che vede in color doppler se è effettivamente squirt. La provenienza è quella, sempre la vescica, e avviene, è diffuso un po' di più nella comunità gay. Ci si sono affognati un attimino di più perché, diciamo, la comunità LGBT rispetto a quella eterosessuale fa grandi numeri sessuali. E loro la riferiscono spesso e volentieri a un discorso post-eiacolatorio. Quindi una simulazione superficiale sul clande post-eiacolazione può portare alla squirt. Che non è altro che una sensazione, questo vale per tutti gli esseri umani, di un misto tra sensazione di fuori uscita di pipì, quindi stimolo di fare la pipì, misto con grande piacere. O comunque, per alcune persone, semplicemente indifferente. E quindi un po' il metodo di simulazione che porta allo squirt nell'uomo può essere questo. Ma in generale una stimolazione molto superficiale sul clande può portare a questo tipo di reazione. Psicologicamente dà lo squirt in generale per molte persone una sensazione di liberazione, una sensazione piacevole, anche molto psicologica. E lo danno tanti anche come requisito. Mi devo sentir libero di lasciarmi andare, se ci pensiamo è una fuoriuscita sostanziosa. È figo perché assomiglia a un'eiacolazione nel mondo femminile. Della composizione freghiamocene. È quello che è, come dice il libro. Come dice Livio, come dice il libro. Come dice il libro, se ci piace basta che funzioni, whatever works. Ringrazio tantissimo Carlo per averci accompagnato, ringrazio Esther, ringrazio Fabri per avermi dato l'opportunità di scrivere questo libro. E ringrazio Orbita. Ciao bellissimi, grazie di averci seguito. Grazie a te, bro, a queste 100 risposte, 50 sulle relazioni, 50 sul sesso. Grazie Carlo, grazie a tutti.